Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 10 novembre San Leone Magno e ricorre la giornata mondiale istituita dall'UNESCO per la promozione della scienza come strumento di costruzione della pace e volanno dello sviluppo internazionale. L'evento istituito nel 2001 mira a promuovere il ruolo della scienza nelle società umane, evidenziando la necessità di coinvolgere il pubblico nelle grandi questioni scientifiche del mondo odierno, sviluppando collegamenti tra scienza e società, migliorando l'informazione scientifica e mettendo in rilievo il ruolo giocato dalla scienza e dagli scienziati nel costruire una relazione positiva e sostenibile con l'ambiente.